Gelsi difende il possesso e viene caricato fallosamente da Mujesan ancora del vecchio, vediamo se ci prova da lì, ha un mancino straordinario e trova il gol in pratica da metà campo schiaffa il pallone con l'esterno sinistro, signori tre gol, uno più bello dell'altro in questa seconda semifinale Crese League mette la freccia e sorpassa la squadra di Mister Malusa, due a uno Dolci di Fulvio, golasso del vecchio con un sinistro oserei dire quasi alla Roberto Carlos d'altronde l'hanno lasciato puntare la porta, il Mirino sparare in libertà Grazie